Ragazzi benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e oggi siamo sempre qui su Pokémon Unite con uno dei video più attesi del canale, dopo la tier list magari arriva Questo, il video delle build, andremo a vedere in ordine alfabetico tutti i Pokémon uno per uno e vediamo la build perfetta con mosse e oggetti su questo Pokémon appunto, su tutti i Pokémon Io vi dico che intanto lasciate un bel like, commentino sul vostro Pokémon preferito se vi piace la build, se avete scoperto una build segreta, qualche cosa l'ho scoperta anche io e vi dirò tutto ma vi dico anche di andare a vedere l'altro video, quello degli emblemi così sapete insomma quali emblemi da abbinare insomma a un determinato Pokémon vi dico già che ve lo dirò, man mano chiaramente, vi dirò questo è meglio un emblema crit, un emblema attacco eccetera eccetera dopo per sapere a quali emblemi mi sto riferendo andate a vedere l'altro video e man mano magari si implementeranno una funzione qui su questo sito dove facciamo le build perché vedete adesso per esempio non c'è l'opportunità di mettere la scheda degli emblemi se magari la mettono facciamo anche gli emblemi per tutti i Pokémon però se no sarebbe veramente un lavorone eccessivo anche perché tanti Pokémon magari condividono la stessa scheda degli emblemi quindi date tranquilli così io inizierei appunto, penso ti ho tornato indietro, ma inizierei da Absol è stato purtroppo nerfato parecchio io spenderò anche due parole su ogni Pokémon andiamo piuttosto veloci se no veramente non finiamo più è stato nerfato parecchio dall'ultima patch adesso il Pursuit potrebbe essere una valida alternativa infatti io l'ho messo perché comunque non è male come mossa ma soprattutto perché Night Slash vi dico è abbastanza ingiocabile dato che l'Heatbox è veramente veramente piccola adesso quindi se dovete giocarlo magari un Pursuit che comunque con tutti i maghi che ci sono i Delphox, l'Asion può dare fastidio con item da critico chiaramente Scope Lens io lo giocavo prima della patch ora non l'ho più provato ma comunque so che è valido con Amplifier e Attack Weight un'altra cosa che si può utilizzare ovviamente è la Razor Claw con ulteriore probabilità di critico e è indifferente insomma magari provatelo in entrambi i modi e poi ditemi come vi trovate e un'altra cosa che è cambiata non si gioca più la Fluffy cosa che si giocava prima Agent Button oppure Full Eal vanno bene entrambi o addirittura magari potrebbe starci un Attacco X con la Build Pursuit insomma c'è ci sono varie Build che possono andare su Absol non però il centro del meta adesso per lui pagina di Runa crit oppure Attacco andiamo avanti con Aegislash che in giungla può dire la sua al momento Sacred Sword e White Guard non lo vediamo più di tanto però però non è male Pesetto per aumentare l'attacco Muscle Band e Buddy Barrier Buddy Barrier su di lui mi piace perché l'animazione della Unite è abbastanza lenta quindi Buddy ti aiuta a portarla a termine perché sennò capita che magari muori mentre la fai insomma cose non troppo carine Full Eal mi sembra assolutamente necessario anche per lui una Build o Attacco o Velocità d'Attacco magari ci può stare per quanto riguarda gli Emblemi andiamo avanti con Azumarill che è stato buffato dall'ultima patch però non mi sembra ancora questo pick fenomenale io sono stata buffata anche Aquatail ma comunque Whirlpool insieme a Waterpulse mi sembrano le mosse un pochino più adatte con Attack Weight un Amplifier che comunque quando ultiamo ci permette di fare tanti tanti danni ci permette anche di ultare più spesso e Focus Band per rimanere un po' più safe in lane velocità X e la pagina per lui potrebbe essere quella ovviamente Attacco non mettiamo Crit perché tanto Crit ha sempre di suo quindi non ha senso aggiungere Crit per quanto riguarda gli Emblemi andiamo avanti con Blastoise vi dico la verità non è il top pick del momento Blastoise e quindi ve lo consiglio magari se volete giocarlo Hydro Pump e Surf così da dare più fastidio possibile agli avversari Buddy Barrier Focus Band e Muscle Band e qui su di lui sinergizza abbastanza bene Eject Button lui vuole una pagina di Emblemi comunque dei tank speciali quella è la sua andiamo avanti con Blissey Blissey King del meta da ormai qualche patch non riusciamo a buttarlo giù soprattutto perché con Soft Boiled Egg Bomb e questa nuova build che è stata insomma testata veramente le spammate cioè spammate cure come se non ci fossero domani con la conchinella pensate un po' abbiamo iniziato a usare la conchinella amplifier e Buddy Barrier velocità X perché spammate cure? perché semplicemente il cooldown reduction che ha l'amplifier e la conchinella unito alle rune gli emblemi per i tank speciali fanno di questo di questo Blissey uno spammatore seriale perché il cooldown reduction è proprio il tempo di ricarica delle mosse grazie a questo abbiamo 9% come vedete poi salendo col livello se non sbaglio dovrebbe acquisirne dell'altro vedete arriviamo a 19% più 8% degli emblemi tanto ringraziamo l'ambulanza ecco è Blissey questa è la ulti di Blissey praticamente sta arrivando sta arrivando la ulti di Blissey arrivata la ulti di Blissey perfetto andiamo avanti con Charizard attenzione Charizard perché non l'ho ancora testato per bene perché purtroppo non mi stanno uscendo rune crit ma ragazzi ragazzi lui potrebbe veramente giovarne tantissimo con ovviamente Flamethrower e Fire Blast quindi lancia fiamme e fuoco bomba Scop Lens pesetto e weakness policy se già prima faceva dei danni clamorosi quando faceva dei critici con attacco X pensate a questo con gli emblemi del full crit pensate un po' secondo me devastante anche quelli attacco vanno bene velocità attacco assolutamente no ragazzi perché non sinergizza su di lui quindi non mettete le rosse su gli emblemi rossi su Charizard mettete quella degli allrounder tranquilli oppure quella crit quella crit consigliata secondo me andiamo avanti con Cinderace Bladeskick e Flame Charge assolutamente non vedo perché giocare Pyro Ball dato che Bladeskick scusate mi dà velocità attacco oltre che uno stun e quant'altro e posso muovermi molto meglio mentre Pyro Ball è vero che fa danno ma sei un paletto fermo Feint io gli metterei magari qualche secondo di cooldown in meno ancora troppo cooldown Muscle Band Scope Lens e Focus Band mi sembra ottimale per lui Eject Button oppure Full Eyal ma per i danni che girano in questo meta ragazzi Eject Button è più importante secondo me meglio evitarli i danni che prenderli e poi usare Full Eyal i danni o gli stun insomma quindi anche per lui rune o emblemi velocità d'attacco vanno bene anche quelli attacco oppure crit come preferite se riuscite a fare magari velocità d'attacco e crit secondo me perfetto andiamo avanti con Cramorant attenzione Cramorant perché in giungla sta prendendo il sopravvento su chiunque con Air Slash e Sub la sua build anche lui con Energy Amplifier con Kinella e Buddy Barrier Eject Button come oggetto stessa cosa per Blissy ovviamente lui vuole invece la pagina degli attaccanti speciali ma sempre il bonus verde e il bonus nero che abbiamo su questo Cramorant che va a spammare Sub Air Slash come se non ci fossero domani pensate un po' 34 cooldown reduction più un 8% dagli emblemi assurdo veramente veramente assurdo andiamo avanti con Crustle attenzione a Crustle perché con Shell Smash e X-Scissor ancora ancora non fa troppa differenza ma appena riusciremo a mettere mani su tante rune critico secondo me lui potrebbe fare molto bene infatti l'ho fatto proprio così con pesetti scope lens e razor claw in modo da cercare di critare il più possibile ecco su di lui vi consiglio assolutamente la pagina o dei tank fisici se non ce l'avete oppure la pagina full crit eject button ma ci sta bene magari anche una pozione o qualcosa del genere andiamo avanti con desidue purtroppo è stato nerfato desidue perché la freccia adesso ha solo due cariche non più tre e shadow sneak chiaramente non è cambiato molto è stato solo un pochino nerfato muscle band scope lens e pesetto so che i pesetti non è facilissimo mettere le stack con un pokemon come desidue però insomma non c'è un oggetto migliore a meno che non prendiamo magari una razor claw e mettiamo un attacco x però a quel punto prendiamo magari un foglie lama che ci sta sicuramente meglio veloci da x oppure un eject button ci sta sempre bene però ecco nel meta desidue ragazzi non si posiziona benissimo al momento troppi troppi danni in giro e lui viene veramente shottato di avanti con delfox ovviamente anche sul di lui velocità attacco va benissimo delfox invece è uno dei pokemon del quale fare attenzione perché magifiamma e turbo fuoco fanno dei danni clamorosi in più stunnano un fottio veramente tanto e shellbell anche su di lui amplifier stessa build rotta della cooldown reduction e mettiamo una choice specs oppure anche una focus band a me piace fare un pochino più danni quindi vado di choice specs velocità x e emblemi degli attaccanti speciali ragazzi su di lui veramente fanno il panico abbiamo turbo fuoco ogni due secondi o qualcosa del genere veramente veramente illegale c'è anche un'altra build volendo con flame charge che è molto divertente da giocare dato che abbiamo uno scatto ogni secondo praticamente però è un pochino complicata magari provatela è un po' complicata prendere magifiamma e prendere insomma fare lo scatto in una direzione giusta turbo fuoco invece va da sola perfetta proprio secondo me molto più forte andiamo avanti con dragonite e anche lui ha ricevuto un bel buff con questi oggetti qua perché pensate con 8% dagli emblemi quindi sempre il bonus nero e con chi ha più amplifier riusciamo adesso a fare dragodanza pensate un po' senza far scadere le stacche di dragodanza quindi riusciamo ad andare in giro sempre con hyperbeam carico al massimo questa è una grande grande cosa che purtroppo gli toglie un pochino di danno dato che toglie magari una muscol dei pesetti o una scop lens qualcosa che può avere oppure se giochiamo al posto della muscol band la focus che ci può anche stare però ecco togliamo un pochino di danni però la cosa di avere sempre hyperbeam carico può fare la differenza in molte situazioni assolutamente full ho provato a giocare attacco x per compensare un po' il fatto di aver tolto degli oggetti di danno ma no ragazzi no assolutamente full heal soprattutto in solo queue per lui perché se no veramente vi stunno nel momento giusto e non riuscite più a fare niente andiamo avanti con duraludon ragazzi vi devo dire di duraludon aspetta però perché una cosa importante da dire è gli emblemi su di lui che sono degli emblemi un po' particolari perché hanno del nero cioè hanno sette neri che prendono il bonus più un pochino di velocità d'attacco lo so che non è una build particolarmente forte però fa quello che deve fare su di lui andiamo avanti di nuovo su duraludon non è non è uno dei migliori carry anzi vi dico la verità è uno dei peggiori al momento dragon pulse mi sembra comunque un pelino più forte rispetto a flash cannon che ti devi fermare lì come un salame e ti uccidono tutti praticamente dato che come già detto i maghi ci stanno gli allrounder ci stanno nel meta e quindi è un problema levi di roccia comunque fa bene muscle band scope e focus band con una full heal assolutamente se no non riuscite mai ad oltare eldegos eldegos non è malvagio nel meta però c'è il cugino di frontiera che è blissi che insomma non se lo fa ripetere due volte nel curare 2000 con un uovo quindi insomma la sua cura di pollen puff è un pochino così però comunque è il suo set più forte sicuramente pollen puff più cotton guard che sono cura più scudo e muscle band perché fa tanti attacchi e fa tanti danni anche eldegos con gli autoattacchi focus body barrier e un eject button comunque molto valido eldegos sicuramente una build per lui anche dei tank speciali come tutti gli altri con il tank support speciali andiamo avanti con espion espion con psy shock e divinazione io non riesco assolutamente a giocare espion con queste build anche se so che riconosco che è una mossa molto forte quindi ve la consiglio anche se io proprio zero non ce la faccio infatti gioco l'altra ma questa è più forte perché è uno stun fa tanti danni eccetera eccetera non andrei per una build cooldown su di lui magari provatela fatemi sapere cosa ne pensate però già ha dei bassi cooldown non so se migliorare ancora ulteriormente magari quei cooldown o lasciare agli emblemi quello che è l'8% perché comunque gli emblemi sono sempre quelli degli attaccanti speciali doppio occhiale e focus mi sembrano ottimali su di lui con una velocità x andiamo a completare la build il prossimo è garchomp che saltiamo perché tanto vabbè dai facciamo garchomp facciamo garchomp set terra assolutamente quindi fossa e terremoto le altre ragazzi si possono essere utili in certe situazioni ma questa queste mosse qua sono secondo me le più forti anche perché aumentano le difese di garchomp e verrete bersagliati tantissimo ma tantissimo con muscle band scope e focus band su di lui eject button e gli emblemi attacco barra critico ci possono stare garde war garde war per me è fisso con divinazione intanto ragazzi non l'ho detto ma qui c'è la lane consigliata quindi anche se non la dico guardate qui insomma c'è la lane consigliata per ogni pokemon divinazione assolutamente moon blast io lo preferisco anche se psychic è comunque valido ma se posso scegliere uno stun io scelgo uno stun ragazzi quindi moon blast se lo faccio l'avversario viene stunnato e quindi per me è un pelino superiore divinazione che si resetta ogni volta che colpiamo qualcosa su di lui ho provato effettivamente la build cooldown reduction ma non mi piace granché quindi conchinella amplifier o quelle cose lì quindi triplo occhiale e secondo me si va a fare i big damage con lui eject button rune quelle degli attaccanti speciali ragazzi quindi emblemi nero verde sempre quello gengar 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 l'ho provato veramente tanto perché è un sacco divertente e con anche la sensibilità aumentata per le mosse riguardo da switch il set con x vi devo dire non è così male infatti secondo me è quasi sono quasi pare i due set personalmente trovo un pelino ma giusto un pelino sopra dream meter e shadow ball però dipende dalle situazioni perché ho svoltato tante situazioni con x e sludge bomb che se avessi avuto le altre mosse non ce l'avrei fatta però triplo occhiale su di lui vogliamo fare dei danni clamorosi ho provato anche quella del conchinello amplifier ma non non workano troppo su di lui quindi comunque hai sempre gli emblemi nero verde quello per gli attaccanti speciali quindi andiamo sicuri eject button oppure anche un full heal ci può stare andiamo avanti con glasian eccolo qua ho fatto una build dedicata a lui quindi andiamo con abbiamo abbastanza spediti icicle spear e ice shard con masco band scope body barrier e velocità x gli emblemi c'è il video a parte per gli emblemi che sono diversi da tutti quelli tutti gli altri quindi andate a vedere il video di glasian gridant gridant non lo consiglierei pure non è il massimo proprio se non se siete veramente veramente bravi con gridant allora ok ma se no supplica comunque è rutto diamo di pesetti perché vogliamo fare più danno visto che stiamo scorando per staccare i pesetti io ci metterei anche un bel biscotto che tanti lo stanno giocando è una focus band vediamo se riusciamo anche a invadere la giungla avversaria grazie anche alla fluffy tail per lui rune io andrei sull'attacco non tanto sul tank perché vogliamo comunque fare danni e gridant purtroppo è stato nerfato abbastanza per quanto riguarda i danni andiamo avanti con green ninja ragazzi questa è la build da solo più più forte probabilmente il pokemon uno dei più forti in solo con smoke screen e surf andiamo quindi a surfare sui nostri amici muscle band pesetto e amplifier lui non lo gioca per il cooldown ma lui lo gioca per potenziare la unite che tira delle botte clamorose unito anche all'attacco all'attacco x quindi lo attiviamo l'attacco x ultiamo e ragazzi se abbiamo preso tre persone fidatevi che tre persone hanno preso tipo 5.000 danni o qualcosa del genere se abbiamo messo tutti i pesetti fa veramente un danno clamoroso la ulti di green ninja e cosa importante su di lui ci sta bene la velocità d'attacco ma ci sta bene anche l'attacco quindi rune rosse oppure rune marroni oppure anche la pagina critica potrebbe andare davanti con upa non il migliore dei pick purtroppo in solo queue so che è fortissimo però gli alleati ragazzi non sempre prenderanno i nostri portali quindi portale più phantom forse è anche un pochema abbastanza complicato da giocare buddy barrier muscle band e focus band con un eject button su di lui io andrei con la pagina dei tank support speciali e stiamo tranquilli così abbiamo più portali con il cooldown e quant'altro diamo lucario lucario ragazzi è sempre lucario non è cambiato niente perché tanto è sbroccato è sbroccato voglia di power up con close combat che ci resetta pure il power up pesetto muscle band e focus band perché tanto la weakness policy e robe del genere con questa build qua secondo me non è ottimale velocità x perché così quando facciamo power up possiamo premere velocità x e andiamo un sacco più veloci verso l'avversario se lo dobbiamo raggiungere la ulti è un ottimo last hit un ottimo danno mi raccomando fatela corpo a corpo perché se no è chiaro che faccia pochi danni e set di emblemi o full attacco quindi attacco oppure magari ci può stare anche una pagina crit non lo so è da provare però io andrei più per l'attacco mi sembra la classica allrounder insomma marroni mi sembra più solida andiamo avanti con machamp stesso discorso per gli emblemi quindi marrone oppure crit per quanto riguarda le mosse dynamic punch cross chop che appunto ci aumenterà anche la probabilità di critare quindi molto molto buona e stavolta ci giochiamo la scope lens perché appunto andiamo a cercare di critare più volte possibili con muscle band e pesetto e jack button su di lui perché troppo troppo forte andiamo avanti con mamoswain mamoswain vi dico la verità ero indeciso se mettervi questa build oppure un'altra io ve le metto entrambe così non sbaglio oppure un'altra che sta un po' uscendo ultimamente che gioca invece pesetto e amplifier con anche attacco x delle volte diciamo che ecco sempre le mosse sempre quelle sfang e igor's power se volete provare una build diversa dal solito magari provate questa io l'ho provata mi è sembrato ok magari non è non è il mio stile di gioco semplicemente quello di mamoswain quindi lascio agli altri giudicare quindi magari provate voi questa build che in tanti stanno giocando ditemelo nei commenti cosa ne pensate fatemi sapere come è andata la partita andiamo avanti con Mr. Mime pure lui non è proprio in meta attualmente confusione e barriera con la classica build buddy barrier focus e specs ah tra l'altro aspetta perché non ho detto le rune mettiamo quell'attacco ovviamente se giochiamo questa build con l'altra invece quella dei tank e lui invece quella dei tank supporti speciali perché è un attaccante speciale con velocità x non è cambiato niente purtroppo su mime dobbiamo ancora magari trovare quella cosa sbroccata non lo stanno testando in molti anche perché non è meta ragazzi diciamo la verità non è proprio il suo meta attualmente andiamo avanti con Ninetills allora 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 Ninetills può essere interessante in alcune situazioni il problema è che ci stanno altri pokemon che fanno il suo lavoro meglio quindi comunque con avalanche e blizzard build classica quindi energy amplifier shell bell con chi è c'è la classica nuova insomma quella del cooldown e delle choice packs con o velocità x oppure anche eject button e possiamo andare a fare tanti tanti danni e spammare le nostre abilità di nuovo emblemi nero verde quindi quella degli attaccanti speciali andiamo avanti con pikachu stessa identica storia stessa identica storia quindi andiamo a fare volt tackle che è una mossa da 10 secondi quindi è un buon cooldown cioè è abbastanza come cooldown andiamo a diminuirla di parecchio con gli oggetti quindi amplifier conchinella focus eject button ma soprattutto pikachu per livello oppure prende tanto cooldown reduction e magari volt tackle andiamo a spammarlo veramente tanto insieme alla palla una volta che abbiamo preso il 34% da qui più chiaramente l'8% delle rune che sono sempre quelle degli attaccanti speciali andiamo avanti con slobro veramente forte con questa build ragazzi provatelo skald e amnesia con sempre amplifier conchinella e le choice specs eject button per fare magari un eject button ulti su un target importante e la cosa forte è che abbiamo le nostre abilità molto più spesso dato che abbiamo questo qua più andiamo a giocare gli emblemi soliti tank speciali e riusciamo sia a avere l'abilità più spesso ma anche a curarci più spesso perché appunto slobro si cura quando fa le abilità quando colpisce l'abilità sugli avversari e questa cosa è veramente veramente forte cioè praticamente abbiamo messo due item di danno ma ci stiamo anche curando di più quindi ha avuto una cosa veramente forte non ho messo bot perfetto ha avuto un buff clamoroso grazie a questi emblemi snorlax invece ecco snorlax non proprio su di lui emblemi dei tank fisici e slam block con body barrier focus band e biscottone andiamo a giocarci questo biscottone che ci aumenta gli hp quindi aumenteranno anche quelli che ci danno gli emblemi e quindi mi sembra una cosa ottimale e tra l'altro anche il recupero di focus band sarà maggiore e jack button per fare degli engage dalla distanza non è comunque il pokemon più forte del meta quindi andiamo andiamo un attimo a vedere cosa può fare come si evolverà nelle prossime settimane nei prossimi mesi si magari un counter di tyranitar chi lo sa chi lo sa andiamo avanti con sylveon pure lui giova tanto da questa build ma ragazzi io vi devo dire la verità giova di più questa build qui eh già magia di fiamma non è non è così sbagliata al momento perché magia di fiamma ha 7 secondi di cooldown in più con gli emblemi degli attaccanti speciali quindi che ha i cooldown la eh conchinella l'energy amplifier riusciamo ad avere mystical fire quindi magia di fiamma veramente spesso veramente spesso e può anche essere un pick divertente da giocare vediamo un po' vediamo un po' quindi provatelo magari con tutte e due io l'ho provato sapete che non è il mio stile di gioco quindi non mi ci trovo troppo però magari a voi può sicuramente piacere sempre calm mind come altra mossa focus band e velocità x gli emblemi l'ho già detto quelli degli attaccanti speciali andiamo con talon flame perché attenzione talon flame attenzione talon flame con flame charge e fly quindi nitro carica se non sbaglio e volo pesetto razor claw e focus band con eject button però su di lui andiamo a giocare degli emblemi si attacco ma che ci sia sicuramente anche il bonus nero perché con volo che ha 12 secondi di cooldown grazie al bonus nero riusciamo a farlo abbastanza più spesso e magari grazie alla zorklore riusciamo anche a fare quei danni da critico in più che sono sempre bene accetti su uno spitter come talon qui ho messo top ma va bene anche mid questa è una cosa molto molto particolare perché prima si giocava top adesso si gioca un po' più mid un po' strano talon flame però ecco pure lui non è il centro del meta però può essere un ottimo counter per glason delfox questi qua quindi tenetelo d'occhio andiamo con trevenant ragazzi immortale immortale trevenant con questa build con curse maledizione e legnicorno focus weakness policy e attack weight io ho messo weakness policy perché mi piace di più però però gli dico la verità ci starebbe bene anche un biscottone il biscottone che dà tanti tanti hp a trevenant e gli fa recuperare più vita io dopo magari in solo queue gioco la weakness policy perché voglio fare più danni ma se vi do consigliare il biscotto ci sta veramente bene perché la sua passiva scala sugli hp la focus scala sugli hp quindi vi recupererete più vita dato che comunque dobbiamo staccare il pesetto questo ve lo consiglio top con attacco x emblemi su di lui pensate vabbè quella di tank no no su di lui ci sta bene anche quella di attacco quella di tank va benissimo però ci sta bene anche quella di attacco quindi scegliete voi vedete magari con quale vi trovate meglio andiamo avanti con sarina ovviamente bot o top qui è indifferente con stomp e tropi calcio focus weakness policy e attack weight pesetto non è cambiato niente non è cambiato niente per sarina ragazzi full heal e siamo abbastanza tranquilli anche con emblemi dell'attacco quindi degli allrounder niente troppo da dire su sarina venusor sludge bomb e solar beam secondo me è la build per eccellenza adesso di venusor è vero che l'altra pure non è male ma adesso questa è devastante fa dei danni clamorosi e hai solar beam ogni 3 secondi perché urgent amplifier con chinella e specs con eject button ovviamente emblemi degli attaccanti speciali quindi verde e nero andiamo a tirare dei solar raggio che fanno malissimo e li tiriamo ogni 5 secondi e dal livello 13 ogni 3 secondi qualcosa del genere veramente veramente forte se per sbaglio prendiamo 3 persone così che stanno vicino boom mezza vita tutti e 3 o anche di più quindi veramente potente andiamo avanti con wigglytuff e non è cambiato niente non è cambiato niente gli emblemi dei tank tank support speciali e niente non è cambiato ragazzi andiamo con canto andiamo con dazinglim buddy focus e uno score shield o altri oggetti che ci possono stare magari una mask o il band però al momento score shield e velocità x ultimo ma non per importanza perché è stato baffato parecchio ultimamente andiamo a parlare di 0 ora una top pat per lui scintilla e scarica come mosse con razor claw che è molto molto forte su di lui perché perché va a attivarsi ogni volta che andiamo a fare spark perché scintilla ha 3 attivazioni e se noi aspettiamo un po' di tempo tra le attivazioni e facciamo l'auto attacco la razor claw si attiverà su ogni attivazione di scintilla pesetto chiaramente e urgent amplifier per tirare delle ulti che sciottano il team avversario magari anche insieme a un attacco x su di lui emblemi attacco o volendo anche potete provare una pagina critico quindi a vostra scelta ragazzi noi siamo arrivati alla fine di questo video build spero che vi sia stato utile che vi sia piaciuto e spero che mi seguiate anche in live su twitch soprattutto ma anche su instagram ragazzi nessuno mi segue su instagram cioè vapor966 su instagram metto sempre le foto zozze quindi cioè andate a vedere meglio di così metto sempre le foto zozze ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao